Ottobre per i lavori sulla parte esterna, entro fine anno la conclusione dell'intervento di ristrutturazione che interessa il primo piano dell'edificio con conseguente riapertura. Sono le scadenze previste per il cantiere aperto dal comune di Pistoia Palazzo Fabroni, il museo dedicato all'arte contemporanea. Questo che ormai non era più né un giardino né un parcheggio, era diventato uno spazio senza anima, verrà trasformato sostanzialmente nel proseguo del museo che sta alle sue spalle. Diventerà un spazio espositivo all'aperto dove verrà recuperato due quinte di verde nella parte destra e nella parte sinistra sul fronte del palazzo e poi nel futuro verrà ricavata anche un'apertura per metterlo in collegamento con l'adiacente giardino che c'è qui nella zona, quello che è poco frequentato da Pistoiesi perché è un po' un orto sconcluso se che è conosciuto come il giardino del Carbonile in qualche modo. Quindi è un'operazione molto importante anche dal punto di vista diciamo economico, si tratta di un investimento complessivo per la realizzazione di questo spazio espositivo all'aperto più la ristrutturazione del primo piano del palazzo Fabroni, complessivamente di 1.300.000 euro di cui 900.000 euro finanziati dalla regione toscana attraverso fondi europei, 200.000 euro dalla fondazione Cassa di risparmio e 200.000 euro in autofinanziamento del comune di Pistoia. Il progetto è stato ereditato dalla precedente amministrazione comunale con la giunta guidata da Alessandro Tomasi che ha deciso di confermarlo. In un primo momento volevamo fermarlo perché non tanto perché non sia un bel progetto, al di là delle polemiche sul verde, che qualcuno dice c'è poco verde, in realtà vengono rimpiantati 12 alberi al posto dell'unico albero presente che c'era, però al di là di questo. Diciamo che la nostra preoccupazione era che in una città con tanti bisogni come Pistoia forse ci sarebbero state cose più urgenti da fare. Non dimentichiamo mai che abbiamo scuole e impianti sportivi del tutto fuori norma da tutte le parti, quindi si poteva riniziare di lì. Però è anche vero che abbiamo fatto un ragionamento insieme alla regione toscana chiedendoli se i 900.000 euro che ci davano a disposizione si potevano allocare in qualche altro progetto, quando c'è stato risposto di no sarebbe stato veramente dai responsabili e da sciocchi non approfittare comunque per rimettere a posto un giardino che, ripeto, un'altra volta non aveva più ormai nessuna anima.